Vorrei ringraziare in particolar modo nostro artista grande, Rosario Parisi. Vedete lo suone bellissimo che ha fatto il lavoro di tanto affetto e come una demozione al San Dejandro. E qui vieni davanti per un po' così. Rispetta perfettamente le fattezze della nostra statua nuova, quella rifatta a Benafra dopo il furto della vecchia. Statua di San Dejandro nel 1986, furto 1987 e nuova statua. Le proporzioni sono perfettamente rispettate, perfino la palma, perfino la dimensione della palma corrisponde perfettamente.